Questo capitolo è incentrato sulla possibilità di utilizzare il laser anche nei confronti delle infezioni. Sappiamo infatti che nell'ultimo decennio c'è stato un aumento significativo delle infezioni resistenti agli antibiotici e queste ancora determinano un aumento appunto della mortalità a livello mondiale. Le malattie effettive rappresentano ancora una causa di mortalità e la ricerca in questo campo quindi si orienta verso delle soluzioni tecnologiche alternative rispetto alla terapia farmacologica e che abbiano un potenziale inferiore di sviluppo di resistenza ma allo stesso tempo un'efficacia antimicrobica dello stesso tipo o addirittura superiore. Quindi la laser terapia rappresenta un'opzione e in particolare la terapia fotodinamica antimicrobica rappresenta una nuova strategia per combattere le infezioni. In questo capitolo mettiamo proprio in luce quelle che sono le ricerche fino ad ora condotte in questo campo nei confronti dell'attività antibatterica, antimicotica e antivirale e quelle che possono essere le future applicazioni cliniche del laser in questo senso.